pace gioia anche oggi nella santa messa ascolteremo il vangelo dove si racconta della manifestazione di Gesù ai suoi discepoli come dice il vangelo che è tratto da Giovanni il capitolo 21 dal versetto 1 al versetto 14 Gesù si manifestava ai discepoli per la terza volta l'inizio del vangelo è la fotocopia del primo racconto della chiamata dei primi apostoli se vi ricordate erano a pescare non hanno preso nulla e Gesù si avvicina e gli dice di gettare le reti e Pietro dice sulla tua parola getterò le mie reti anche in questa apparizione avviene quello che è avvenuto nella chiamata i discepoli tutta la notte erano a pescare non hanno preso nulla e sulla riva vedono Gesù Gesù come la prima volta mostra la potenza della sua parola infatti dice agli apostoli gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete e loro gettarono la rete e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci così come ci racconta Giovanni mi piace sottolineare quello che dice Giovanni quella notte non presero nulla quando già era l'alba Gesù stette sulla riva tante volte noi viviamo la notte spirituale e non siamo capaci di vedere i frutti della nostra vita tante volte sperimentiamo la notte del nostro cuore e ci sentiamo con le mani vuote Gesù ci aspetta alla fine della notte anche a noi mostra la potenza della sua parola e ci invita a gettare la rete perché lui è presente e con lui così come hanno fatto gli apostoli fidandoci di lui noi vedremo i frutti nella nostra vita ci dice il Vangelo quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore il discepolo che Gesù amava è lo stesso discepolo che dopo l'annuncio delle donne arriva per primo al sepolcro e vede il sepolcro vuoto è l'amore che ci fa riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita è l'amore che ci fa sperimentare la potenza della parola del Signore vogliamo prendere noi il posto del discepolo che Gesù amava così da riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita e poter annunciare a tutti che Gesù è il Signore su ciascuno di voi sulle vostre case sulle vostre famiglie invoco la benedizione di Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna e la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi e buona giornata.